Possiamo sedere? Mio nipote, è bravo e intelligente, non perché è mio nipote. Guarda che bello in mano mi ha fatto, guarda. Lo vedo solo nel bene perché sono la nonna. Ce l'ho qualche difetto secondo te? No. Niente proveniente? No, niente. Ma io vivo per i miei nipoti. Non ci sta niente di me che non ti piace proprio. La voglia di studiare, saltami addosso. Non puoi fare servizi, non puoi fare niente, discutere tutte cose, pierde chiave. Però è una ragazza di sani principi. Non è se invece ti dicessi. C'è una cosa che non sai di me che vorrei dirti, però secondo me non ti piacerà. Ti va a stare con una mura di due pezzi. Tu lo sai su mantenere i segreti. Non lo puoi immaginare. Qualsiasi cosa che mi dirai l'accetterò. Qua sotto c'è una cosa. Giusto? Tu sai cos'è questa? Che anni non ci vedo bene. Una candela. Una candela? Una matinta, una penna. No. Una sigaretta un po' particolare, diciamo. Ah, elettronica. E credo che ho sponso il listo. Ti fai più risponso il listo. La droga? La droga? Questa è marijuana. Mamma mia. Ma sei pazzo. Ma ci riesci a morire. Ma tu devi sapere. Hai sbagliato, per me. Perché vai contro lo spinello se non sai nemmeno cos'è? Si incomince con questo per poi finire. Con la droga è grande. Non è che se una persona si fa una canna, poi va a finire verso altri tipi di droghe che ti rovinano veramente la vita? Non è cocaina, non è eroina. È usata come medicina. Te levo stress. Te levo stress. Sei proprio un geno. Ma a te piace il vino? Un bicchiere... La domenica. È la stessa identica cosa. No. Non sarebbe più giusto legalizzarla. Si svuoterebbero le carceri. Combatterebbero anche le mafie. E ma noi teniamo il Papa in Italia che non fa legalizzamento. Ma l'hai mai provato? No. Tu cosa provi quando... Provare che cosa? Qualche cosa che fa male? Ma non fa male. Tu ma stai insistendo per cosa? Mi devi fare questo regalo. Ci vuole fumare? E adesso ci restiamo lì. Vuoi che è che 70 anni mi metto a fumare la canna, quanto mai. Dai. No. Dai. No, no, no. Direnzi. Eh, prima come è sto direnzi. Che si deve accendere o si deve mangiare? No, la devi accendere. Ma non vuoi fare questo regalo oggi? Come no? Vuoi fumare? È fumare. È fumare? Ecco qua. Va bene? Grazie, no? Prego. Grazie. Com'è bello studio. La vita si evolve e insieme all'evoluzione ci entrava sempre in queste cose. Per questo motivo, diciamo, sono d'accordo. Va bene? Perché sono proprio caperaticamente. Tu vuoi vero che spene la mucca, Papa? No. Dico, tu vuoi vero che spene la mucca, Papa? No. Perché secondo me lo faccio. Perché?